Ciao a tutti cari amici, buonasera, bentrovati con il nostro appuntamento con la canalizzazione del pensiero della persona a cui pensate. Andiamo a vedere subito le carte della stesa di questa notte. Io vi ricordo che questi video sono interattivi, quindi non sono stesi generali, scusate non sono consulti privati. Se ne volete uno potete contattarmi via mail a tarot-gmail.com, la trovate in descrizione, quindi anche semplicemente per delle informazioni potete contattarmi. Questi video sono validi dal momento in cui vengono visti e vanno bene per tutti i tipi di copie, quindi donne che guardano per uomini, uomini che guardano per donne, copie arcobaleno, scusate eccetera. Se siete uomini che guardate naturalmente, basta semplicemente che giriate il sesso, quindi la storia non cambia, a meno che non lo dica in modo specifico, ma basta solo appunto che pensiate a una lei invece che a un lui. Allora, vediamo subito com'è la situazione questa sera. Allora, innanzitutto qui emerge un allontanamento, una distanza con la persona di vostro interesse. Potrebbe essere un allontanamento di tipo geografico per alcuni di voi, ma anche un raffreddamento, perché qua la carta mi parla dell'essere stranieri. Quindi, o avete comunque a che fare con una persona che effettivamente non è della vostra stessa cultura, ma ha una cultura diversa, arriva da un altro paese, o è distante geograficamente, quindi effettivamente è proprio distante non solo di paese, ma molto, molto distante, cioè una regione, uno stato completamente diverso. Per alcuni di voi si potrebbe trattare di un allontanamento dovuto a questioni lavorative, o una persona che magari è andata dai parenti, quindi comunque allontananza, sia fisica, ma per molti di voi potrebbe riguardare il sentirsi estrani tra di voi, quindi non avere più quel feeling, quella comunicazione emotiva che si va a creare tra due persone che hanno gli stessi intenti. Quindi un raffreddamento in generale. Vediamo un po' cosa sente questa persona, che cosa prova. Allora, emerge innanzitutto una sorta di bisogno di tranquillità, di serenità da parte di questa persona. È un uomo che vede in voi la speranza nella sua vita, sta bene con voi, lo rendete sereno, lo rendete pacifico, e quest'uomo vorrebbe un nuovo inizio, vorrebbe iniziare qualcosa di nuovo, una nuova relazione, un nuovo scopo nella vita. Per alcuni di voi qua potrebbe volere anche un figlio. Cercate naturalmente di capire perché sono interattivi. Quello che emerge maggiormente all'interno di questa stesa è un'instabilità di tipo, probabilmente anche economica per molti di voi. Qua c'è molta difficoltà in ambito finanziario. Quindi se siete impegnati con questa persona e sapete che quest'uomo desidera un figlio o lo desiderate entrambi, c'è una sorta di difficoltà per questioni economiche. Cioè questa persona lo vorrebbe, probabilmente si è distaccato, allontanato, perché sente di non essere adeguata. E quest'uomo sappiate che per questa instabilità economica o comunque instabilità generale all'interno del vostro rapporto si sente una persona fallita. Cioè un uomo che è incapace di occuparsi della propria famiglia, della propria vita, della propria donna e eventualmente di un figlio. Questa è una stesa che emerge e lo dico perché naturalmente magari qualcuno di voi la sente appartenere. Se invece non parliamo di una persona con la quale avete una relazione ufficiale, si intende, quest'uomo vorrebbe probabilmente avere l'inizio di un rapporto perché si sente bene con voi. Però qua emerge proprio l'aspetto della difficoltà economica per molti di voi, ma anche dell'istabilità dal punto di vista sociale. Cioè una persona che magari è in un posto, ha un lavoro o è al centro dell'attenzione e quest'uomo non supera, non riesce a superare il fatto del giudizio degli altri. Cioè teme che prendendo determinate scelte le persone possono in qualche modo giudicarlo. E anche questo se ha una relazione ufficiale voi siete l'amante. Ma qua non esce, però potrebbe essere, quindi questa persona fatica a prendere una decisione se attendete il nuovo inizio appunto per questi problemi anche a livello proprio delle chiacchiere che potrebbero girare. Cioè le persone potrebbero pensare di lui che si separa, che è una persona un poco di buono, un fallito, un uomo che non è riuscito a portare a termine o a tenere la famiglia unita per la vita, insomma. Questo è un po' quello che emerge dalle carte. Quindi cercate un po' di capire, fatemi sapere nei commenti, ditemi se la stessa ha risuonato con voi. Io vi mando un abbraccio grandissimo, manca pochissimo a Natale, quindi spero che stiate tutti quanti bene. Vi invito come al solito a mettere un like, ad iscrivervi al canale. Vi ricordo sempre che se volete contattarmi per informazioni, per un consulto privato o anche semplicemente per magari dare qualche idea per degli interattivi che io un po' alla volta faccio, c'ho una lista lunga un chilometro, abbiate pazienza ma purtroppo il tempo è quello che è. Mi potete contattare via mail, la trovate in descrizione, la trovate anche nell'immagine di copertina del canale è tarot-tai-tarot-gmail.com Io vi mando un abbraccio grandissimo e vi auguro una buona serata.